Caro albergatore, oggi ti voglio parlare dell'analisi preliminare da fare per il tuo hotel. Perché? Perché è davvero un elemento importantissimo prima di arrivare poi a postare sui social. So che non vedi l'ora di mettere il tuo primo post su Facebook oppure il tuo primo video su Instagram, però credimi questo è un aspetto fondamentale per poi ottenere dei risultati concreti grazie a queste piattaforme. E sai anche perché te ne parlo? Perché l'analisi preliminare dello studio azienda, appunto i vari modi in cui lo possiamo tomare, è un aspetto fondamentale anche del metodo social migliotelle, il mio metodo, quello che io ho sviluppato nel corso degli anni, per poi arrivare da te albergatore e darti risultati concreti nel momento in cui noi andremo a collaborare insieme. Quindi non perditi questo video e iscriviti subito al mio canale. Ciao a tutti, sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video, sempre dedicato ovviamente al mondo degli alberghi e al mondo dei social. Però oggi non vi parlerò come pubblicare su Facebook o su Instagram, ma vi parlerò di tutto il processo che noi dobbiamo andare a fare prima di arrivare a postare sui social. Noi dobbiamo andare a conoscere a fondo quello che noi siamo. Magari alcuni di voi effettivamente conosce la sua struttura per davvero, però credetemi, in base a quello che ho visto, avendo parlato con tantissimi di voi, effettivamente voi a volte non conoscete la vostra struttura. Non sapete in un soggiorno medio, non sapete che tipologie di clienti avete. Perché? Perché credete di parlare a tutti. Quindi di conseguenza che cosa si va a fare? Non lavoriamo efficacemente sui social. Per questo oggi ti spiego un aspetto che per me è fondamentale e che fa parte del metodo social mini tele, il metodo che io applico per esistituire le ricettive, per portarvi risultati concreti, per portarvi più preonazioni, più richieste di preventivo, e per portarvi quello che voi desiderate da tempo, ovvero l'aumento di fatturato. Noi veniamo a noi, passiamo all'argomento del giorno, ma prima di iniziare non ti scordai di iscriversi al canale attivando la campanella divina per le notizie. A volte l'analisi preliminare, comunque lo studio di agenda, viene vista come un aspetto superfluo, perché quello lì che mi propone il pacchetto tutto incluso, 5 euro al mese, questa cosa non me la fa. Lui dal giorno dopo inizia a pubblicare sui social. Beh, già vi dico che con me questa cosa non accade, né con me e né con altri mondi del mio film. Perché? Perché noi dobbiamo arrivare a pubblicare sui vostri social attuando una strategia ben definita. E allora vi direte, fatti questa strategia, fai questa strategia e poi partiamo. E no, mi dispiace, dobbiamo fare ancora un passaggio in più prima di arrivare a questi aspetti, ovvero quello che vi stavo dicendo, l'analisi preliminare. Perché quando io poi metto mano effettivamente alla vostra comunicazione online, beh, trovo i peggiori disastri, mi ritrovo con siti web che magari non sono funzionanti, oppure mi ritrovo con pagine social doppie o voi che non sapete che avete un problema reputazionale online e non l'ho stato gestendo. Magari sui team advisor o su YouTube.com. Addirittura mi sono ritrovata con strutture da fare, mi hanno chiesto una consulenza, perché una volta io erogo anche questo servizio a parte, e ce l'ho come consulenza a parte. e quindi mi sono ritrovata facendo tutte le mie ricerche con lo stesso albergo che si promuoveva con un trotto di stelle da una parte, su un altro sito con un altro numero di stelle, su un altro sito con un altro numero di stelle. Quindi capite bene, parliamo di una presenza online confusionaria. e poi ci sono coloro che la presenza online proprio non ce l'hanno, non hanno nulla, nemmeno un sito web one page di prima. Quando noi andiamo a fare poi tutte queste analisi e le esponiamo, tutte queste cose servono per farle rispettere, decidere dove intervenire a breve termine, o magari dove è necessario assolutamente intervenire a breve termine, e dove intervenire magari a lungo termine, perché ci sono anche questi aspetti, a volte ci sono dei interventi molto costrutti da fare, che qualcuno decide di mettere più avanti a budget, ma deve sapere che deve fare queste cose, per migliorare la propria presenza online. E quindi che cosa andiamo a fare? Andiamo a vedere voi chi siete, agli occhi del pubblico, come le persone effettivamente ricercano, perché a volte mi è successo di cercare la struttura, lato cliente, io faccio la doppia ricerca, non solo lato professionista, ma anche lato cliente, e quindi che è bene cosa trovano le persone. E mi è capitato di trovare, meglio indicizzato, un sito web che oramai, non, praticamente, non era più in utilizzo, ed era fermo con le promozioni, non so quanti anni fa, mentre il vero sito web, io l'ho trovato, poi, nella seconda fase di ricerca, quando effettivamente l'analisi l'ha fatta la mia professionista. E quello perché io ho continuato a cercare, ho insistito, altrimenti, il nuovo sito web non lo avrei trovato. Ed è un peccato, quando noi poi andiamo a fare degli investimenti, perché lavorare con un social media manager, o comunque, collaborare con un'agenza di marketing, è un investimento e non si deve limitare al semplice reel o al posto sito web, vanno benissimo, ma devono avere un senso, ci deve essere una strategia dietro. Anche perché se voi andate a fare delle pubblicità che magari le riportano al vostro sito web, beh, ragazzi, noi mi siamo ritrovata con sito web che non erano funzionanti. Sì, magari voi il tastino X di quello che è prenotato ora funziona, però poi andate a vedere, ci sono tanti altri punti del vostro sito che effettivamente non vanno bene, riportano a 404, queste sono solo cose che vi danneggiano, come ad esempio il fatto di rimandare a pagamento, vi dico, persone sul vostro sito web, ma magari il sito web non è ordinato o confusionario, tanti tastini qua e là, informazioni spazie, quindi le persone che cosa fanno? Invece di andare dritto verso l'obiettivo che voi volete raggiungere, ovvero la prenotazione o comunque la riposta, loro si distraggono, si dispergono. Molto probabilmente magari se ne vanno fuori al primo o secondo tastino che non funziona, perché nel momento in cui sono nella fase di studio preliminare, che cosa faccio? Analizzo punto per punto il vostro sito web, in modo tale da andare a vedere dove approdano i clienti e effettivamente qual è il percorso che loro poi possono svolgere per contattarli e magari chiedere ulteriori informazioni. Così come si fa un'analisi anche del pregresso che è stato sui social media. Quindi che cosa significa? Andiamo a vedere voi come avete lavorato finora e cosa non è andata? Come ad esempio post copy and call, call to action, chi social che rimandavano a boom.com che assolutamente sono cose da non fare e così via. Quindi nel momento in cui noi vediamo tutti gli aspetti andiamo a conoscere meglio la vostra sito e andiamo a vedere effettivamente quali sono le problematiche e quali possiamo risolvere soprattutto quali sono i punti di porta. Ti racconto questa cosa perché ho fatto una conferenza davvero illuminante e mi sono ritrovata dall'altra parte un vostro collega che conosceva davvero la sua struttura lui mi sapeva dire quante porte di percentuali provenivano da di prenotazioni venivano da booking quale istante quanto gli dava come ricavo eccetera quali erano i punti di porta conosceva tutto conosceva la sua struttura e sapeva esattamente dove poteva intervenire ma mi sono ritrovata anche in situazioni dove magari gli chiedevo semplicemente o che tipologia di cliente l'avete oppure qual è il vostro soggiorno medio e la risposta era aspetta devo chiederla la risposta perché io queste cose non le so va benissimo essere l'imprenditore lì avete 10.000 cose della quale occuparvi va benissimo ma se voi non sapete dov'è l'emoragia e beh il vostro albergo continua a sanguinare ma in realtà poi voi non riuscirete mai a risolvere il problema altro passaggio che noi andiamo a fare con l'analisi preliminare come vi dicevo prima è quello di andare a vedere cosa mi dice di voi online ora a me non dite mai in consulenza purché se ne parli male o bene non mi interessa no perché quando parlano male e poi la cosa perde il nostro diciamo non abbiamo più controllo su quella cosa le conseguenze sono difficili effettivamente da gestire ma noi andiamo a vedere bene parlano male di noi parlano bene di noi bene che cosa dicono perché sapete che cosa succede che nel momento in cui noi sappiamo anche cosa pensano noi gli ottici andando ad analizzare quelli che sono commenti e recensioni bene delmeno possiamo vedere anche noi dove andare a migliorare calcolate che nel momento in cui conosciamo anche la nostra clientela abbiamo magari ricevuto delle recensioni negative e stiamo andando a risolvere che cosa è successo noi cosa abbiamo fatto siamo andati a rispondere a quelle recensioni negative dicendo cosa avevamo già risolto perché loro potevano tornare e tirarsi a noi perché magari quelli non torneranno più quella persona che ha lasciato la recensione negativa non torneranno a più magari non vedranno la nostra risposta però nei momenti in cui noi abbiamo persone che stanno cercando informazioni di noi beh quella recensione negativa la vedranno così come vedranno la recensione negativa vedranno anche la nostra risposta e vedranno che dall'altra parte c'è un'azienda che è attenta a quello che dice i clienti sa che ha avuto un problema e che lo ha risolto e quindi saranno una mezza intenzione di venire da voi ma erano spaventati da recensioni negativa beh vedete che diranno bene allora ci trovo visto che hanno rivolto questo questo e questo quindi sono attenti alle problematiche che hanno in struttura vedete quanti passaggi quante informazioni noi possiamo riuscire a ottenere da un'analisi subliminare ancora prima di arrivare a pubblicare sui social è così efficace questo passaggio che mi permette di dire ai miei clienti se non sei soddisfatto io ti rimborso chiudiamo qui la collaborazione e ti rimborso pure e credetemi questa cosa ora non è mai accaduta perché le persone che sono soddisfatte se ne rendono conto perché vedono tutti questi passaggi che davvero li illuminano sono alcuni aspetti della loro azienda che loro ancora non conoscevano che basta tutti questi post su facebook che sono sereni noi dobbiamo andare a parlare con il tuo pubblico chi è il tuo pubblico non è tu tu hai un certo tipo di clientela la quale ti rivolgi bene noi dobbiamo parlare a queste persone quali sono le loro esigenze quali sono le loro obiezioni non ti preoccupare comunque che questo aspetto lo andremo a approfondire parlando della varia persona in un prossimo video ma in generale tu queste cose le devi sapere e se tu non sai quali sono i problemi della tua azienda mi dispiace dirtelo hai un problema e magari il tuo problema possono essere anche i dipendenti che rispondono male che non sono in grado di convertire con un preventivo perché magari il tuo receptionist al telefono quando chiamano oppure coloro avverti a reparto booking ti rimandano le persone su booking.com quindi tu stai arrancando per continuare a ricevere delle prenotazioni dirette quindi capisci quante cose sono fondamentali per poi arrivare a raggiungere il tuo traguardo adesso in 2024 e in futuro è impensabile non essere online e quando siamo online non dobbiamo parlare di quelli che sono i nostri punti di posta che non sono uguali per tutti magari perché l'animazione magari per qualcun altro è la colazione per qualcun altro è la ristorazione oppure addirittura un punto strategico perché magari ci ritroviamo in una zona davvero unita e quindi le persone vogliono venire da noi bene andiamo a parlare al nostro pubblico basta con queste foto delle camere che non servono assolutamente a niente quindi la prossima volta che andrete a collaborare con un'agenzia o con un social media manager voi dovete pretendere questo studio iniziale perché loro vi devono conoscere nel momento in cui voi iniziate a farvi gestire la vostra comunicazione online e tutti questi aspetti non sono stati visti beh credetemi quel servizio lo potete pagare pure 10 euro perché è una cosa copia e colla che hanno fatto ovunque anche dagli altri loro clienti magari cambiando una protetta quella quello che voi dovete pretendere è che devono essere parte integrante della vostra azienda li devono conoscere questo non significa che le persone devono lavorare per forza e l'uso io ho i migliori clienti con i quali non mi sono mai stretta la mano ma conosco ogni angolo della loro struttura ogni angolo conosco i dipendenti mi sento con loro regolarmente a volte sento più loro della mia famiglia ma fa niente è necessario perché? perché dobbiamo arrivare a portarvi dei risultati questi risultati devono essere tangibili e voi ve ne dovete rendere conto il pubblico ma se tutto questo se tutti questi tempi che vi ho fatto magari sono problemi che avete anche voi e non si vanno a risolvere prima di andare a pubblicare online beh a quel punto avete un problema i social non sono una battetta magica non andranno magicamente con un post a portarvi tantissimi clienti quindi mi raccomando andiamo verso la direzione giusta andiamo alla ricerca di tantissimi clienti andiamo alla ricerca di questi clienti sui social però facendo il lavoro nel modo giusto come sempre spero che questo video ti sia stato di aiuto fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e soprattutto se hai già avuto un'esperienza con un'agenzia o con un professionista in quanto riguarda la gestione social come ti sei trovato e se effettivamente questo passaggio c'è stato o meno io ovviamente ti aspetto nel mio prossimo video prima di andar via non ti dimenticare di iscriverti al canale e di attivare le notifiche tramite la campanella ti aspetto un besos